I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un palermitano 36enne già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma hanno tratto in arresto nel quartiere Sperone uno spacciatore il quale si trovava agli arresti domiciliari per fatti analoghi. L'uomo deteneva in casa oltre 140 grammi di hashish, sostanza suddivisa in dosi, pronte per la vendita al dettaglio. La perquisizione ha consentito di recuperare lo stupefacente che è stato sequestrato e consegnato al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha ripristinato per il 36enne l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.